Eccoci qui di nuovo alla nostra seconda parte della storia della letteratura italiana. Mi sono lanciato in questa impresa e mi sto divertendo un pochino, devo dire la verità. Oggi siamo alla seconda parte. Ieri abbiamo parlato dell'introduzione, e stiamo sempre seguendo, come il nostro libro di testo, Wikipedia. Proprio per dimostrare la semplicità di questo corso, eh? Non voglio prendere dei testi difficili, perché questo corso è destinato agli studenti di Magna Italia o anche altre scuole, come per esempio la scuola che c'è qui in Mongolia, a studenti di lingua straniera che stanno studiando la lingua italiana come lingua straniera e vogliono avere qualche nozione, qualche informazione semplice di base sulla letteratura italiana. Ecco, quindi, ieri abbiamo parlato delle premesse linguistico-letterarie, dove appunto abbiamo detto che si cominciava a formare la lingua italiana, ovviamente dal latino, dalla lingua volgare, cioè dalla lingua che veniva usata dal volgo, dal popolo. Ecco, quindi, andiamo avanti, qui ho messo lo zoom bello grande per poter avere le lettere ben leggibili. Di questo ne abbiamo parlato ieri, nella puntata numero uno. Anche di questo ne abbiamo parlato. Ecco, i primi documenti. Cominciamo qui con qualcosa di carino che, guarda caso, ritorna negli indovinelli, il vittorino, vittorina, come si dice in lingua russa, gli indovinelli che io scrivo ogni giorno nel gruppo di Magna Italia e, guarda caso, il destino vuole che, tra i documenti più antichi che dimostrano questa esigenza, cioè l'esigenza di cominciare a scrivere in volgare, vi è in primo luogo un semplice indovinello. L'indovinello, vittorina, è un gioco costituito da un testo scritto, generalmente in forma di epigramma, e costituisce il prototipo dei giochi in versi, in enigmistica classica. Lo scopo del gioco è, naturalmente, indovinare quale oggetto si cieli, si nasconde dietro questi versi. E questo è lo scopo del gioco, quindi non c'è bisogno di suggerire la soluzione, è un gioco, divertiamoci, divertiamoci. Quindi, se ci si sbaglia, non è un problema, non succede nulla, bisogna stare tranquilli dall'errore, imparare e migliorarsi. È tutto qui il gioco. Quindi, questo indovinello veronese è composto da quattro brevi versi, che vennero scoperti nel 1924 in un codice della biblioteca di Verona. Ecco, lo sono andato a cercare. È uno dei primi documenti scritti della letteratura italiana, in volgare italiano. Eccolo qua. Ve l'ho trovato su internet. Qui trovate, vi metterò in descrizione, come dicono i famosi youtuber, vi metto in descrizione poi tutti i link, eh, delle pagine, così potete rileggere, cerco di zoomare un po' di più, ingrandire il testo. Eccolo qua. Quindi, il brano così recita. Se pareva voves, alba prataglia araba, et albo versorio teneva, et negro semen seminava. Ecco, questo era, come potete ben sentire, ben vedere, sembra quasi latino. E' un mix, è un mix, è un incrocio tra il latino e l'italiano. Era questa la prima versione della lingua volgare italiana. Sembra latino, ma non è latino, ovviamente. Ma ha molte cose simili al latino, molte parole. Quindi, è tradotto, tradotto in italiano moderno. Cosa significa questo indovinello? Anteponeva a sé i buoi. Bianchi prati arava, e un bianco aratro teneva, e un nero seme seminava. Ecco, chi è? Che cos'è? Quindi, noi dobbiamo indovinare questo indovinello. Quindi, ragioniamoci un po' su. Anteponeva a sé i buoi, bianchi prati arava, e un bianco aratro teneva, e un nero seme seminava su questi bianchi prati. Quindi, a prima lettura, sembra che stiamo parlando, ovviamente, di agricoltura, no? Seminare i prati, arare con l'aratro i buoi. Ma, in realtà, c'è un doppio significato, un secondo significato. Quindi, quella che ha una prima traduzione letterale, cioè parola per parola letterale, può sembrare la descrizione di una scena bucolica, cioè di una scena agricola, nasconde, in realtà, un secondo significato. È quasi un gioco enigmistico, un indovinello. La cui soluzione, anche divertente, e ovviamente gli indovinelli sono sempre un pochino divertenti, è la seguente. Qui viene spiegata la soluzione. Che cosa sono i bianchi prati? Sono le pagine bianche di un libro, di un quaderno, di un libro. E aveva un bianco aratro. Che cos'è il bianco aratro? La penna d'oca. La penna d'oca con cui si scriveva. A quel tempo, ovviamente, si scriveva con la penna di oca, che veniva imbevuta in tinta nell'inchiostro. La penna d'oca, per scrivere, è un nero seme seminava. Che cos'è il nero seme che seminava sulla pagina bianca? L'inchiostro, l'inchiostro nero. Ecco qui, svelato questo indovinello, che è il primo, il primo vero, tra i primi documenti più antichi che sono stati ritrovati. E stiamo parlando, che è probabilmente, ecco, vedete qui, scritto verso la fine dell'VIII secolo, inizio del IX secolo. Benissimo. Qui abbiamo addirittura, come potete vedere, Wikipedia, devo dire, è fatto veramente bene. Abbiamo proprio il ritrovamento cartaceo, proprio. Eccolo qui. Qui c'è il verso e qui abbiamo trovato in quest'altro sito la spiegazione. Bene, andando avanti, quindi questo è il primo vero testo scritto, ritrovato, della prima forma della lingua italiana, volgare. Andando avanti, andiamo avanti, qui direi, possiamo saltare questa parte, ecco, l'uso del volgare e il suo uso letterario. Per queste prime testimonianze in volgare bisogna tener conto che il volgare che passa nelle scritture e diventa a poco a poco lingua letteraria non è il linguaggio del popolo, così come questo direttamente lo parla, ma è quello stesso linguaggio di una persona colta e che generalmente sa di latino, quello che vi dicevo prima, sa di latino, sembra latino, ma non è. Ma non è neanche la lingua che si parla al mercato o dalle persone, dal popolo, dalle persone meno colte. Quindi lo tratta e lo sistema perché sia comprensibile al popolo, ma al tempo stesso abbia la dignità grammaticale, stilistica di stare accanto al latino. Ecco, questo è veramente fantastico. È una lingua, non quella del mercato, non quella troppo popolare, ma non è neanche il latino che non l'avrebbe più compreso nessuno, quindi è un adattamento. È una forma latina che fa due, tre, quattro gradini verso il basso in maniera tale che possa essere compresa dal popolo, ma allo stesso tempo abbia una certa dignità grammaticale e stilistica in maniera tale da poter essere messo di fianco accanto al latino. Questa descrizione è veramente molto molto bella. Quindi, come tutte le lingue romanze, cosa sono le lingue romanze? Le lingue romanze, il gruppo, se voi mettete qui il ma, la punta, l'indicatore del mouse, sul Wikipedia vi esce la descrizione. Le lingue romanze o anche dette lingue latine o neolatine sono le lingue derivate dal latino e come sappiamo benissimo parliamo di spagnolo, francese, italiano, portoghese e il romeno. Queste sono l'evoluzione diretta del del ah, ecco, qui dice qualcosa di interessante. Sono l'evoluzione diretta non direttamente dal latino ma, dal latino classico, ma da da quello volgare. Cioè, che vuol dire? C'è una fase di passaggio latino puro, lingua volgare, un qualcosa a metà, come abbiamo letto qui, a metà tra il latino e l'italiano questa via di mezzo e quindi le lingue romanze si sono sviluppate dal volgare che a sua volta veniva, risaliva direttamente dal latino. A questo punto cominciamo, bisogna fare un discorso sulla lingua doc e la lingua doil. ecco, qui parliamo delle corti italiane del centro nord dove appunto si cominciano ad usare cioè c'è l'influenza di questo di queste due lingue. Che cosa che cosa sono la cos'è la lingua doc e la lingua doil? Sono, come viene sempre ben spiegato qui è l'occitano antico o provenzale antico quindi o in questo caso la lingua doile è la lingua più antica la forma attestata della lingua francese parlata nei territori che coprono approssimamente la parte settentrionale della moderna Francia. Quindi c'è parliamo di francese lingua francese o quello che è in questo caso l'origine del francese anche in questo caso è una via di mezzo fra il latino e il francese moderno parliamo della lingua francese e parliamo della lingua francese del sud della Francia e della lingua francese del settentrione del nord della Francia. che cosa perché questo nome lingua doc e lingua doile che che significa il significato è qui ve l'ho cercato per voi qui sulla treccani punto it con lingua doile si intende è un modo di dire vuol dire sì affermativo dire sì ha fatto ha fatto questo è una risposta affermativa l'equivalente dell'italiano del sì in particolare nella lingua doile l'espressione è usata per indicare l'antica lingua letteraria della Francia settentrionale a contrapposta al provenzare antico lingua doc cioè oile voleva dire sì mentre nel sud della Francia sì quando si voleva dire sì non si diceva oile come nel nord della Francia ma c'era un'altra espressione oc provenzale oc veniva adoperato per la risposta affermativa oc fecit latino questo è latino ha fatto proprio questo sì l'ha fatto quindi era era due diverse tradizioni per poter dire sì nel sud della Francia si diceva oc sì nel nord della Francia si diceva oile ecco qui che nella lingua moderna francese è diventato oui questo credo che sia molto interessante ecco che quindi abbiamo questa separazione tra il nord della Francia e il sud della Francia e ci sono due modi di dire c'è una differenza fra i due linguaggi ecco perché viene chiamata la lingua doc e la lingua d'oile con la lingua doc si fa riferimento al provenzale quindi è la lingua della Francia del sud che Dante la chiamava la lingua d'oca espressione tradizionalmente usata per indicare il provenzale antico contrapposto al francese antico quello del nord lingua d'oile che poi è diventato oui ma talora veniva anche riferita alle parlate moderne della Francia meridionale occitanica e di tale espressione prese il nome una delle grandi regioni storiche della Francia la lingua d'oca lingua d'oca benissimo quindi abbiamo capito anche che cosa significa la lingua doc lingua d'oile e ha avuto ovviamente ha influenzato anche delle corti delle corti dove si creava letteratura dove si cominciava a creare la letteratura c'era stata anche questa influenza fino ad arrivare ecco anche in Italia a livello letterario a livello culturale credo che per oggi abbiamo finito la seconda parte vediamo dove siamo arrivati perché la prossima la prossima volta nella terza parte voglio cominciare a parlare del duecento finalmente diciamo che abbiamo finito la premessa seppur breve seppur semplice ma almeno abbiamo avuto un'idea di come la lingua italiana si stia trasformando dal latino fino ai vari passaggi le varie situazioni cos'altro dire direi che per oggi vabbè leggiamo questa ultima frase per trovare in italia testi a carattere propriamente letterario e in un volgare solido cioè in un volgare che sia costituito lingua vera bisogna risalire intorno alla metà del dodicesimo secolo con il ritmo laurenziano ritmo laurenziano è una cantilena giullaresca di corte venne ritrovato in un codice della biblioteca medicina laurenziano di Firenze è un componimento poetico componimento poetico di corte anche qui bisognerebbe parlare della corte dove si cominciavano a produrre delle canzoni canzoni i testi delle canzoni poi sono state ritrovate e sono state studiate nella letteratura italiana quindi il primo ritrovamento in un certo volgare solido in una lingua diciamo già affermata è questo ritmo laurenziano ritmo infatti erano delle canzoni giullaresche dei giullari per intrattenere le corti per intrattenere i principi i re e si fa risalire a questo periodo qui 1150 1157 è stato ritrovato in un codice della biblioteca medicea larenziana di firenze consiste nella cantilena di un giullare toscano i giullari sono gli intrattenitori artisti musicisti ovviamente di alto livello medio basso livello come come tanti artisti ci sono oggi e al ritmo di sant'alessio trovato nelle marche nel ottavo secolo o al ritmo cassinese una maniera come dire oggi rock pop rap musica classica ecco questo giullare quest'artista cantava con questo ritmo di sant'alessio uno stile uno stile benissimo io vi saluto spero che questa questo questa chiacchierata sulla letteratura italiana storia della letteratura italiana mi sia piaciuta buono studio a tutti e e ci sentiamo per la prossima puntata ah ecco volevo concludere scusate concludo che nella prima puntata avevo citato il professor alberto asor rosa e avevo detto probabilmente sarà in pensione si è in pensione quando io ero all'università passavo davanti alla alla sua aula e c'era molti studenti c'era come un alone un alone di di cultura perché molti studenti che passavano di là dicono questo è l'aula lo studio l'aula del professor asor rosa già questo nome ci incuteva rispetto no chi è asor rosa nasce nel 1933 è in pensione in questo momento critico letterario storico della letteratura saggista accademico e politico italiano quindi veramente ecco quando noi studenti passavamo davanti alla sapienza la sapienza ecco c'era proprio questo alone di come dire si sentiva proprio un'energia culturale di formazione marxista qui potete potete leggere la sua storia e se volete dal 79 al 1980 è deputato per il partito comunista italiano ecco qui abbandona l'attività didattica nel 2003 io ho finito l'università nel 2000 quindi infatti me lo ricordo che era ancora lì alla sapienza benissimo vi lascio tutti i link in descrizione come si dice cliccate per favore sul like se vi è piaciuta questa breve chiacchierata iscrivetevi al canale e un caro saluto alla scuola Magna Italia di Mosca e un caro saluto anche alla scuola qui della Mongolia di lingua italiana e a tutte le scuole di lingua italiana nel mondo e a tutti gli studenti che vogliono imparare la lingua italiana e vogliono conoscere la cultura italiana ciao ciao a tutti e ci sentiamo per la prossima puntata